Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Domenica 3 aprile a Pesaro in Baia Flaminia, la seconda edizione dei campionati italiani di duathlon che si tengono qua a Pesaro. Si rinnova il connubio tra il comune pesarese e la società Flipper Triathlon di Ascoli Piceno. Noi siamo con il presidente Raffaele Avigliano, ormai c'è questo connubio che è molto salto, no? Sì, devo dire anche con molta soddisfazione da parte nostra perché abbiamo individuato in Pesaro la location ottimale per questo tipo di manifestazione. La collaborazione che ormai da anni stiamo riscontrando da parte dell'amministrazione locale e tutte le associazioni che poi ruotano attorno è quanto di meglio si possa chiedere. C'è quindi questo grossissimo affiatamento ormai sul territorio che oggi ci mette alla vigilia di questo appuntamento con il giusto entusiasmo e l'esperienza anche di quanto abbiamo fatto fino ad ora. Quindi aspettiamo un buon numero di atleti domenica in gara e siamo pronti per offrire le condizioni di sicurezza e di qualità che meritano per un campione italiano. È una manifestazione che ospitiamo con orgoglio, siamo a città della bicicletta, siamo una città che vuole correre quindi un binomio perfetto che si racchiude all'interno del Duathlon. Aspettiamo tanti sportivi nella nostra città, è una competizione che si svolgerà in uno dei luoghi più belli nella nostra città, Baia Flaminia e il Parco San Bartolo. Uniamo sport e turismo, un binomio perfetto che negli anni abbiamo sempre più promosso.